Guardalo, non è una meraviglia. È il nuovo iPhone 7. Il miglior iPhone di sempre con la migliore rete Team di sempre. Fa scatti perfetti anche con poca luce. Ma c'è di più. È resistente all'acqua. Puoi sfruttarlo al meglio grazie alla rete Team. In più, con Team Next, puoi avere un iPhone nuovo ogni anno. È il momento migliore per avere il nuovo iPhone 7 con Team. Vieni nei negozi Team o su Team.it. Grazie a tutti.